Era anche in fuga e per il corridore della Stana che è praticamente la seconda volta che cade anche lui coinvolto nella discesa, certo è che è picchiato dentro un'altra volta. Qui ci dicono malacarne, ma non solo malacarne, ma diversi altri corridori delle rock car. Anche Daniele Colli temo di aver visto, eccolo là. Adesso si vedono soltanto le gambe di Daniele Colli. Purtroppo le cadute poi ricadere su parte dell'orario.